È un grande piacere sostenere da tanti anni, ormai 17, questo rapporto CNAM, cioè che è un grandissimo valore. Sono 17 anni purtroppo però che si ripresenta come caiede d'oleans di cose che sono abbastanza note. Cioè il problema è stato identificato chiaramente, occorre trovare però delle soluzioni pratiche. Allora se volessimo fare una ricetta rapida potremmo pensare alla necessità di finanziare una spesa sanitaria pubblica che è di tre punti percentuali inferiore rispetto a paesi umologhi del nostro, adottare un approccio olistico evitando una mentalità a silos per singole voci di spesa, investire in prevenzione, avere il coraggio di dismettere tecnologie a basso costo e cercare di premiare l'innovazione che è uno dei grandi endeavors del cambiamento.